Ciao amici! Finalmente siete arrivati anche voi! Io e Bambù stiamo organizzando la festa di Halloween qui, nel far west di Cardaland! Ma che stai facendo? Non credi che non se ne siano accorti, che sei tu! DJ! Ma non sei proprio capace di mantenere un segreto? Questo era il mio costume di Halloween! Adesso tutti sapranno che il fantasma sarò io! Ah Bambù! Ma nella nostra festa nessuno sarà in costume! Ho trovato un gruppo di persone che... Beh, diciamo, un tempo erano vive! Ragazzi, è il vostro momento! E questi? Da doveri! Ma no! Fantasmite! What? Veri! O meglio, reali! Ma no! Ma no! Il suo odio al rai! Grazie a tutti! 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 Tutto può succedere! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!